Allora, come detto, finora stiamo vedendo bottiglia di sfumante, metodo classico, metodo classico, sinonimi, come funziona brevemente questo metodo classico? Al nostro vino base, a proposito, se il vino base è un pino nero e un chardonnay, al nostro vino base aggiungiamo il tirage, è un mix di zucchero e lievito. Si aggiunge il tirage, si chiude quel tabbo a corona e si lascia riposare per due, tre, cinque, sette anni, dipende dalla versione. Grazie. Grazie. Grazie.